si va verso la fine dell'anno come è andato il 2024 nonostante le tensioni internazionali della crisi noi abbiamo dei dati ancora molto positivi quindi con cauto ottimismo vediamo un futuro molto molto promettente per il nostro interporto quanto è automatizzato quanta tecnologia e quanta intelligenza artificiale c'è oggi all'interporto di Padova ovviamente noi completeremo entro marzo l'automazione quindi avremo un fascio di cura portale completamente automatizzate e questo ci ha predisposto per poter far partire l'altro progetto che è quello di intelligenza artificiale più precisamente di machine learning noi puntiamo a un saving attorno al 30% che vuol dire meno gasolio, meno energia elettrica e più sicurezza